Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Ancora non è ufficiale l'arrivo di Massimo Silva alla guida del Campobasso, il tecnico arrivato ieri sera nel Cavologo di Regione, ma in sostanza ancora non ci sono stati segnali di fumo bianchi per quel che riguarda un suo eventuale ingaggio. Intanto riprendono gli allenamenti in vista della prossima uscita di campionato al Selvapiana arriva il Castelfidardo. Ultime ore abbastanza movimentate in casa Rosso Blu da San Mauro di Romagna ad oggi diverse questioni e nuovi scenari per il prossimo futuro della società. Facciamo ordine domenica la dirigenza del Campobasso Calcio nelle vesti del Presidente ha coinvolto l'ex Gloria Rosso Blu Raffaele Di Risio e l'ex Presidente Adelmo Berardo per offrire un sostegno e un aiuto alla causa. Compiti diversi per i due. A Di Risio è stato chiesto di affiancare eventualmente il nuovo allenatore e offrire un contributo in termini di esperienza a tutto l'ambiente in un momento molto difficile. A Berardo il compito di collaborare nella scelta dell'allenatore. Lo stesso ex Presidente tramite delle conoscenze di vecchia data ha consigliato alla dirigenza del Campobasso la figura di Massimo Silva. I due insieme proprio allo stesso Silva si sono incontrati ad Ascoli per poi seguire il match San Maurese-Campobasso. Insomma una collaborazione per il momento esterna da parte di Berardo che ha esaurito il suo compito indicando un nome per la panchina Rosso Blu. Mentre il ruolo di Raffaele Di Risio è ancora in via di definizione anche per le difficoltà oggettive che sta attraversando la società. Detto questo proprio Massimo Silva è in città da ieri sera per trovare l'accordo con la società ed eventualmente fare il punto della situazione anche a livello di organico. Sembra che dopo la visione della gara di domenica siano già state indicate delle linee a guide sulla rosa a livello puramente embrionale si è parlato di un eventuale rientro di Meduri e Chimpala in attesa delle spettanze arretrate e dell'ingaggio di un attaccante in grado di offrire un reale contributo alla causa. Atteso uno sviluppo nelle prossime ore di certo tutta la questione non sembra potersi esaurire nel giro di 24 ore. Inoltre una nuova cordata con imprenditori molisani ma anche di fuori regione sembra interessata a rilevare la società. Tra le condizioni poste in essere poter vedere i conti del campo basso calcio e ovviamente gli stessi non devono superare un certo limite. Infine l'azzeramento delle cariche attuali della società per ripartire da zero. Anche qui ci sentiamo di dire che il tutto è assolutamente embrionale ma comunque una notizia attendibile confermata da alcuni riscontri. Insomma diverse situazioni in essere. Bisogna provare a sistemare il tutto nel più breve tempo possibile. Al momento la classifica dice play out. La squadra è in grande difficoltà e serve una sterzata netta che deve partire per forza di cose dalla società e da una nuova guida tecnica. L'Olimpia agnonese prepara la gara interna con la San Maurese Granata-Reduci dal K.O. di San Marino. È ripresa l'attività della rappresentativa di Serie D in vista della prossima Via Reggio Cup. L'allenatore Augusto Gentilini da ieri fino a domani ha programmato uno stage da tre giorni a Monza. Tra i 44 convocati anche il difensore del campo basso Matteo Corbo. Domani è previsto un test amichevole contro l'Inter Berretti. Calcio d'inizio alle 14.30 presso il centro sportivo Monzello. Calcio a 5 di Serie B scenderà in campo domani per recuperare la prima del girone di ritorno. Lisernia ospite dello Stuni. Fischio d'inizio alle 19.00. Mister Scarpitti al termine della gara contro il Conversano. Un 11-3 che non lascia spazio all'immaginazione. Prima volta in doppia cifra e decima vittoria consecutiva da parte di Lisernia. Sì, sicuramente è una partita che ci tenevamo a vincere per mantenerci sempre in testa in classifica, per mantenere la distanza dal giovinazzo. Quindi i ragazzi l'hanno affrontata nella maniera corretta e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Poi essere andato in doppia cifra fa piacere, ma non cambia nulla. Piuttosto magari dispiace per tre gol evitabili che abbiamo preso e magari l'ammunizione presa, queste cose in una partita come questa stonano un attimo, però dai, alla fine ci sta. In questa gara ti ho visto per la prima volta in questa stagione seduto in panchina nel secondo tempo. Di solito si è abituato a vederla sempre in piedi la gara, a sentirla proprio. C'è un po' di tranquillità da parte di Lisernia? Si ha la consapevolezza dei propri mezzi? Il discorso è che la squadra in quel frangente stava gestendo bene la fase di possesso, che era quello che gli avevo chiesto. Io ho chiesto ai ragazzi nel secondo tempo di gestire bene il pallone, di non correre rischi e di affondare quando riuscivamo a crearci gli spazi adatti. Quindi con la squadra che stava facendo, secondo me, bene quello che gli era stato richiesto, non c'era motivo perché stessi lì. Il primo tempo, magari qualche motivo in più, nonostante il parziale importante c'era perché ci sono stati degli errori commessi sia a livello tattico ma anche a livello di gestione della partita. Nel secondo tempo i ragazzi ci hanno fatto stare più tranquilli. Si deve arrivare al giro di Boa, allo scontro diretto di questa stagione contro il Giovinazzo settimana prossima. Prima però ci sono due trasferte, quella da recuperare questo mercoledì contro lo Stuni e poi quella contro il Canusa. Come si arriva poi al Giovinazzo? Dobbiamo arrivare al Giovinazzo in testa. L'obiettivo è quello. Abbiamo due trasferte in crescendo come difficoltà perché sicuramente ad Ostuni non sarà semplice a partire dal fatto che è una trasferta infrasettimanale con tutti i problemi del caso e la trasferta più lunga dell'anno contro una squadra che comunque sta raccogliendo punti su un campo molto piccolo. Insomma non sono tranquillo nell'affrontare una trasferta così e ci arriveremo sicuramente alla massima concentrazione. Poi andremo a Canusa e lì sarà veramente dura perché obiettivamente il Canusa in questo momento penso che sia tra le due o tre squadre migliori del campionato e dovremmo arrivarci bene purtroppo con tanti minuti nelle gambe con una trasferta lunga. Però la squadra è costruita per fare tante partite e quindi sono sicuro che faremo una buona prestazione sia a Ostuni che a Canusa. Poi Giovinazzo quando ci arriveremo ci penseremo. Il Cus Molise sempre domani farà visita al Canusa in campo alle 20.30. Marco Sanginario, mister del Cus Molise, arriva una vittoria 3-2 contro il Capurso, meritata, ma quanta sofferenza però? Tanta differenza però giustificata dalla posta in palio che era veramente altissima oggi. Abbiamo fatto una buona gara, forse meno brillanti del solito. Ho visto la mia squadra giocare molto meglio anche con squadre di caratura superiore. Però oggi era troppo fondamentale prendere i tre punti, ci siamo riusciti, quindi va bene così. Peccato solo non aver recuperato i due gol dell'andata, quasi risultato identico. Sì, era importante vincere con lo scarto di due perché in caso di parità a fine stagione si vede la differenza reti negli scontri diretti e quindi era importante. Però sinceramente oggi era molto più importante mettere in cascina i tre punti, ci siamo riusciti con una vittoria anche sofferta, quindi fa morale, fa gruppo e ci apprestiamo a tre trasferte difficilissime che sono nell'ordine Canusa mercoledì, sabato andiamo a Potenza, poi andremo fuori casa a Ruvo. Sono tre partite dove non possiamo e non dobbiamo sbagliare. Le partite cominciano a finire, i punti cominciano a pesare, bisogna muovere sempre la classifica perché da dietro cominciano a spingere. Sì, adesso mercoledì ci aspetta Canusa. Andiamo a affrontare una squadra imbottita di stranieri, di gente professionista che gioca a futsal da tanto tempo. Dovremmo fare una prestazione perfetta per portare dei punti a casa. L'importante comunque è metterci l'impegno, il sacrificio e capire, come hai detto tu giustamente, che a questo punto della stagione i punti sono fondamentali. Anche perché mister è veramente un camminato bello. Tolto l'Isernia che fa un camminato a parte, poi alla fine sono tutte partite equilibrate con tutti. Sì, se vai a vedere il nostro urlino di marcia, ha levato l'Isernia, come hai detto giustamente tu e Manfredonia, poi il resto delle partite le abbiamo perse quasi tutte di uno. Quindi sta a indicare che c'è una sorta di equilibrio che regna sovrano in questo girone. In questo equilibrio però noi dovremo trovare sicuramente la salvezza a tutti i costi. Coppa Italia nel triangolare interregionale. La Futsal Isernia questo pomeriggio sarà ospite della Matera per la seconda gara del triangolare. I ragazzi di Delizio, dopo aver rimediato un KO contro il Pomigliano, sono obbligati a vincere per sperare nel passaggio del turno. Basket di Serie B dopo aver ospitato la capolista Monte Granaro. Il Globo domenica prossima potrà contare ancora sul fattore campo. Ospite al Palafraraccio, il Rimini, ne abbiamo parlato con il coach. Antonino Sanfilippo, coach del Globio Isernia, una gara ostica già sulla carta. Sì, sapevamo che sarebbe stata una gara particolarmente complessa per l'intensità, la forza fisica e la capacità tecnica dei giocatori di Monte Granaro. Abbiamo provato a fare la migliore gara possibile e oggi siamo questi. Come cercherai di preparare i tuoi ragazzi per la prossima Rimini? Cercando di allenarci al massimo, cercando di tirare fuori intensità, se ce l'hanno. Dubito che qualcuno di loro abbia un livello di intensità adeguato in questo momento. Vedremo di far giocare chi si dimostra più pronto a giocare gare vere e chi non è pronto sta seduto. Cos'hai da rifinire in allenamento? Sarebbero da rifinire duemila cose, però bisogna fare il massimo con quello che oggi siamo, cercando di capire che secondo me la Serie B è un premio per molti di loro. È chiaro, le difficoltà sono enormi ogni domenica. Siamo una squadra di ragazzi molto giovani. Abbiamo fatto fin troppo, forse fino a questo momento. Adesso nessuno ci sottovaluta più, nessuno ci risparmia. Il cammino per la salvezza è ancora lungo, ma ci sono tantissime possibilità. Sì, ma è un cammino che tra l'altro dipende anche molto dagli avversari. Ci sono squadre che si sono notevolmente rinforzate. Noi dobbiamo cercare di essere migliori di quello che siamo il giorno prima. Cercando di capire però che abbiamo anche dei limiti, perché secondo me alla fine conoscere i propri limiti è un punto di forza in alcune partite. Stasera siamo stati bravi attratti a farlo. Basket in carrozzina prosegue il campionato di vertice della Fly Sportina e la Molise Termoli, con i due punti conquistati tra le muramiche contro il fanellino di coda Foligno, nel recupero della penultima giornata d'andata. I molisani si sono portati a soli due lunghezze dalla capolista Rieti. La Fly Sport domenica sarà ospite proprio del Rieti. È stata ospite della giornata dello sport Nicole Orlando che nell'occasione ha presentato anche il suo libro Pietato dire non ce la faccio. Nicole Orlando qui a Campobasso per la giornata dello sport, per testimoniare la tua esperienza anche sportiva e per presentare anche il tuo libro. Ce ne vuoi parlare un poco? Il mio libro è molto interessante, è potentissimo. Così i ragazzi potranno leggere il mio libro con scritto il titolo evitato di non ce la faccio perché è il mio motto e anche non molare mai perché dico sempre. Questo titolo ho creato con l'Alessia Cuciani, la giornalista, la gazzetta dello sport. È bravissima, si impegna tantissimo e sono fia di lei e io spero di continuare così. Sei una ragazza molto intraprendente, non solo sport, non solo libro ma anche ballando con le stelle. Sì, ballando con le stelle è un'esperienza molto bella, ho vissuto momenti molto belli, insieme Stefano Radei e mio partner, perché a volte chiamo sempre dolce, è straordinario ovviamente, un amico speciale. Mi ha scritto una lettera che è dolcissima, è molto bravo ovviamente in persona. Anche la Mille Callucci, Paro Belli e la Carol Smith che è l'insegnante di ballo che mi ha fatto delle prove insieme a lei. Però lì è molto bello, il programma è stato molto bello. Un'ultima domanda, come ti sei avvicinata alla fine anche allo sport in generale? Lo sport in generale mi piace perché ho il timbro, ho il sangue nello sport, perché è la mia passione. Perché io da piccola, tre anni, facevo ginnastica artistica e poi i miei mi hanno buttato un anno in piscina, perché il piscina mi piace un sacco e anche altre discipline. Lo sci no, non mi piace tanto. Calcio Balilla, Trivento, Sala Giochi, Il Ritrovo e Sepino, Barri, Il Castello ospiteranno le prossime due tappe del torneo itinerante di calcio Balilla organizzato da Trivisonno, Biliardi e Giochi. Domenica a partire dalle 17 la tappa di Trivento, sabato 4 marzo, sarà la volta di Sepino. Calcio regionale, sconfitta per Lisendia contro la Corazzata, Vasto Girardi, Mingione, ai nostri microfoni. Mingione, è difficile commentare una sconfitta per 5 a 1, insomma, se si dovesse leggere soltanto il risultato sembrerebbe che il Vasto Girardi abbia massacrato Lisendia, ma in realtà non è stato così. Sì, soprattutto il primo tempo con cui siamo stati sempre in gara, abbiamo trovato anche il parreggio, però purtroppo poi è venuta fuori la forza del Vasto Girardi, l'esperienza, le giocate singole che hanno maturato questo risultato abbastanza, così diciamo, ampio. Ecco, avete retto il campo, fino al 3 a 1 avete retto il campo, poi, come hai detto tu, la forza del Vasto Girardi, soprattutto in attacco, è venuta fuori e voi avete mollato. No, più che mollato, comunque noi non ci possiamo rammaricare niente, ai ragazzi non gli possiamo di niente, perché comunque, come hai detto tu, fino al 3 a 1 siamo stati in gara. Poi purtroppo, soprattutto direi, il 2 a 1 che abbiamo preso in quel modo ci ha tagliato forse un po' le gambe e poi mentalmente il 3 a 1 ci ha fatto comunque, ci ha ammazzato proprio, diciamo. Ecco, comunque, insomma, le sorti dell'Isernia in corso d'opera sono cambiate, bisogna prendere atto della decisione societaria, insomma, le forze queste sono e bisogna arrivare alla fine del campionato stringendo i denti e dando sempre il massimo che sicuramente, insomma, da parte vostra non verrà mai meno. Sì, di certo non sarà questa sconfitta a fermarci, comunque noi porteremo davanti questo progetto di crescere con i giovani, di dare continuità ai nostri allenamenti e alle nostre prestazioni. E ripeto, non sarà di certo questa sconfitta di oggi a fermare il percorso dell'Isernia. Noi continueremo a fare il nostro tragitto, poi a fine campionato tireremo le somme. Tre punti decisivi in chiave salvezza per lo Spinete contro la Cliternina. I Matesini preparano il recupero di sabato con l'Isernia. Mario Orsini, vittoria importante, tra l'altro si è uscito in un momento topico per un risentimento. Sì, vittoria veramente importante perché io ci credo in questa squadra, questa squadra è veramente all'altezza. Sicuramente non possiamo stare lì sotto. Sono uscito perché ho avuto risentimento dovuto a qualche partita fa. Però spero che nella prossima di sabato contro l'Isernia ci sono, perché ho voglia di vingere con questa squadra, ho voglia di salire in classifica con questa squadra. Senti, possiamo dire che la concentrazione è stata l'arma in più vostra contro la Cliternina? La concentrazione che avete tenuto per tutti i 90 minuti di gioco e quello vi ha permesso di guardare alla partita fino alla fine? Sì, soprattutto verso la fine quando la partita si è messa più sul piano fisico che sul piano calcistico. Noi siamo stati in grado di andare avanti e di mantenere il risultato. Tre punti d'oro, diciamo che tenete a distanza anche quelli dietro di voi, ma soprattutto cercate e strizzate l'occhio di guadagnare qualche posizione importante. Si spera, si spera, speriamo bene. Domenica, anzi sabato c'è il Macchia, partita molto delicata. Tra l'altro è una squadra dove avete fatto una gara amichevole qualche giorno fa e dove l'hai, hai subito il tuo infortunio. Sì, sì, contro Panico. Speriamo, speriamo di fare un pareggio, speriamo bene comunque dai. Di nuovo era aggressivo? Sì, sì, speriamo bene. Nel campionato di promozione il Cerce Maggiore prosegue la sua risalita in classifica, il tecnico. Manolo Sacco, alle nature del Cerce Maggiore, un pariggio arrivato proprio sul filo di lana, la sua squadra era andata sotto di un gru nel secondo tema, ha provato a reagire e poi la punizione di Tedis che è stata assolutamente provvidenziale. Sì, è stata provvidenziale perché ci ha permesso comunque di raggiungere il pareggio, però io credo che ai punti il pareggio sia il risultato più giusto, anche perché noi abbiamo avuto tre o quattro occasioni nitide per raddrizzare la partita. Non siamo stati bravi a concretizzare e poi paradossalmente è arrivato il pareggio all'ultimo minuto. Dopo la vittoria a Roboante di San Martino forse ci si aspettava una prestazione che confermasse quanto vista San Martino, anche se il Cerce Maggiore comunque ha tenuto bene il campo, ha raggiunto il pareggio. Forse non con lo strapotere fisico che ci saremmo aspettati. Ma noi non dobbiamo parlare mai di strapotere fisico, tecnico e tattico, noi dobbiamo giocare tutte le partite singolarmente dando il massimo. Abbiamo giocato contro una signora squadra e quindi io credo che alla fine il risultato, il pareggio, ci servirà per fare classifica e fare morale. Una classifica che si arricchisce di un punto, comunque si muove ma il cammino è ancora lungo, però il carattere e l'impegno visto in questa partita sarà sicuramente prezioso per il futuro. Hai detto bene tu, io direi che non è lungo, è lunghissimo il cammino, lo ho detto prima e lo ribadisco adesso. Noi dobbiamo salvarci acquisendo una posizione dei play-out migliore per poi andarle a disputare nel migliore dei modi. Senza crearci illusioni o crearci patemi d'animo perché noi la classifica è quella che è e dobbiamo arrivare ai play-out il prima possibile per poi andarcela a giocare. In campo sabato per il recupero contro il Rocca Sicura il Baranello che spera nel riscatto dopo il K.O. di Boiano. Manuele Di Chira, allenatore e giocatore del Baranello, cosa è andato storto oggi? Cosa è andato storto? Loro hanno fatto due gol e noi zero. Cosa è andato storto? Abbiamo fatto il possibile, siamo venuti qui in questo periodo un po' particolare dove ci siamo allenati di meno. Abbiamo affrontato una signora squadra che sotto il profilo del palleggio ci ha messo in difficoltà, però ha trovato il gol su questa palla inattiva, siamo in uscita, non siamo riusciti a contenerli. Poi loro sono bravissimi a giocare, a chiudersi, a ripartire. Avanti hanno i giocatori che in questa categoria ci stanno veramente stretti, come Mauriello, come Di Camillo, come altri. Non abbiamo avuto la forza di trovare la zampata giusta, anche se abbiamo avuto un'occasione clamorosa per pareggiare uno a uno contro piede, abbiamo preso il secondo gol. Ci sta, domenica scorsa a Serra Capriola c'era andata bene, giocando la stessa partita, lo stesso modo, e gli episodi ci hanno dato ragione. Oggi è andata così, siamo comunque consapevoli che dobbiamo giocarci ogni partita a partire da sabato prossimo. I presupposti per fare bene ci sono? I presupposti noi diamo sempre il massimo, oggi sinceramente non devo rimproverare nulla ai ragazzi perché tutti hanno dato tutto. Ripeto, abbiamo affrontato una signora squadra che ha messo in campo qualcosa più di noi e ha meritato la vittoria. Per il resto i presupposti, se noi diamo sempre il massimo, credo che comunque con questo atteggiamento i risultati possano arrivare. Michele Barone, attaccante del Baranello, oggi non è andata nel migliore dei modi tutto sommato. Sì, è stata una partita difficile l'approccio alla gara perché il campo era pesante e loro sono bravi a far girare la palla. È successo sull'1-0 col mangiato e col subito? Purtroppo è la dura legge del calcio. Io ho calciato come meglio potevo, col piatto interno, è stato bravo il difensore a respingere la colpetta e poi hanno fatto un bel contropiede. Come volete organizzarvi? Con quali presupposti affronterete questo giro di ritorno? Organizziamo con lavoro, grinta, allenamenti e serietà. Allenamento che è stato poco, fra l'altro. Alla fine noi ci siamo allenati al chiuso, quando si poteva e quando non si poteva siamo rimasti a casa perché c'è stato il problema della neve, lo sanno tutti. Però noi abbiamo provato ad allenarci con continuità. Certo, 25 punti comunque è un buon bottino e c'è ancora da lavorare. Sì, sì, 25 punti sono un buon bottino e bisogna sempre lavorare e puntare a migliorarsi. Il Molise dopo il pareggio con il Cerce Maggiore prepara la sfida di Yelzi. Maurizio Mitra, allenatore dell'FC Molise, sicuramente fa male subire il pareggio proprio a pochi secondi dalla fine. La sua squadra vi ha controllato bene e è andata addirittura vicino al radduppio, più di quanto loro fossero arrivati vicino al pareggio fino a quel momento. Qual è il suo pensiero dopo quanto è accaduto? Il mio pensiero, quello che rimane tanto amare in bocca, ci siamo visti sfumare proprio gli ultimi dieci secondi. Era il 94esimo, una punizione inesistente, però voglio dire l'arbitro l'aveva data. Siamo stati un po' non polli, però potevamo difendere meglio, mettere uno più in barriera. Probabilmente mi prendo anche io le colpe. È stato bravo poi i tedeschi a pareggiare. Ancora una volta azzeccati i cambi dalla panchina con l'ingresso di Gianfagna che ha portato in vantaggio la sua squadra e poi del grosso che comunque ha dato velocità e imprevedibilità alla manovra. Sì, proprio in vista di questo lungo stop ho preferito magari spargere energie un po' più eque. Durante tutta la partita ho fatto i due cambi e sapevo che al secondo tempo Freschi, sia del grosso che Gianfagna, potevano fare il salto di qualità. La squadra così è stato. Vabbè, oltre al gol di Gianfagna, che comunque è abituato a fare gol, ma l'under del grosso ha fatto un'ottima gara, ha messo in difficoltà sull'out destro. Il loro terzino puntualmente lo saltava, metteva un po' di scompiglio. Credo che è una vittoria meritata, giocata bene da noi. Erano circa 40 giorni che non andavamo in campo, abbiamo giocato bene, se nemmeno con lo stesso piglio, però purtroppo la sorte oggi non è stata da nostra parte e ci ha penalizzato. Una partita sicuramente sfortunata, quindi bisognerà ripartire con ancora più rabbia e impegni a Benecazzone per i prossimi impegni, perché c'è tutto un girone di ritorno da giocare, quindi niente è definito, i giochi sono ancora apertissimi. Sì, sì, sono apertissimi. Chiaramente è difficile smaltire questa cosa, però già da martedì ci rimetteremo al lavoro, perché comunque dobbiamo guardare sempre avanti. Massimo impegno, massima concentrazione anche negli allenamenti. Lavoriamo come stiamo facendo da quasi due anni, per cui stiamo sereni. Noi, ripeto, gli episodici possono andare a sfavore e toglierci i numeri, però noi quasi tutte le partite giochiamo sempre allo stesso modo, sempre attivi concentrati, attivi ordinati, per cui questo ci fa ben sperare. Adesso vediamo i risultati maturati in seconda categoria. Quindicesima giornata, nella seconda categoria, girone A, Ala Fidelis, Castel di Sangro 2 a 0, Macchia Godinese, Domenico Desisto 1 a 1, Miranda, Giovanni Morcone 2 a 1, rinviata Real Carceres Sassinoro, Sepino Sant'Angelo 9 a 0, Sporting La Pietra, Montenero 3 a 1, ha riposato Masserie La Corte. In testa al raggruppamento A, 28 punti, per Masserie La Corte e Ala Fidelis 26, La Pietra 24, Castel di Sangro, di seguito tutte le altre. Nel raggruppamento B, questi risultati. Acli Calcio Campobasso, Reds è stata rinviata, così come anche Campolieto, Fortore. Si sono giocate, Audax, Toro, San Giovanni, Ingaldo 2 a 2, la seconda Baranello, Real Gambatese a 9 a 2, Morgia Pietro Accatella, Fiamma Folgore 1 a 0, Cerce Piccola, Celenzia 1 a 0, San Marco, Casale, Downi 3 a 3. 32, Casali Downi, 31 per il Cerce Piccola, 30, Celenzia 28, Fortore di seguito tutte le altre. E chiudiamo con il girone C della seconda categoria. Questi i risultati. Sono state rinviate, Fossaltese, Mondimitar, Oratino, Accadema Britannica Campobasso, Ettorella del Sagno, Tre Colli e Rotello. Si sono giocate, Guardia Alfiera, Calena 1 a 2, Munch, Su Funi matrice 0 a 0, Salcito, Rocca Vivara 0 a 3. Si deve invece ancora giocare Petrella, Giovani, Castro Pignano. Questa è la classifica, 33 per il Calena, 28 matrice, insieme anche al Guardia Alfiera, distaccato a 21. C'è Rotello, di seguito tutte le altre. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. No, 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 can очень. Sì, . . Grazie.